ok ragazzi siamo tornati con un nuovo video dove stavolta giocherò realmente dopo una settimana e mezza in cui ho iniziato a giocare sempre di meno sempre di meno sempre di meno fino a non giocare completamente negli ultimi quattro giorni perché hai giocato a blitz perché non ho giocato no perché non mi sono preso un attimo una pausa dai giochi in generale ho pensato solo a te ti ho portato in giro shopping sfrenato e cose così ha avuto una amnesia però è successo quindi dopo aver fatto shopping shopping sfrenato e tutte queste cose così questa volta giocherò io perché mi sento proprio molto molto casato e da un po di tempo che non è da un po di tempo che non gioco come se meglio ok a che finalmente si vede che c'è anche tu una fronte che ho sistemato cosa mi combina una posta un po il mondo è un po più vicino che se non cade la condizione durante la partita ok alex di 700 quindi sei pesante come canguro ti ucciderò alex b ti ucciderò vieni lato di qua e a prendere la sedia con il commento a due ok ragazzini iniziamo a no ma non ho fatto la partita veloce cioè non ha fatto la partita lento ho fatto la partita veloce e ha sbagliato amen ragazzi qualcuno si prende collera nessuno si prende collera golden frame shoot da vola andiamo iniziamo subito con i tiri da lontano ok 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 come bellino è fatto un'azione ciao ok ragazzi sto un po morendo mi sono dovuto mettere gli occhiali per forza che se avete visto il video che sarà caricato prima di questo perché ancora non l'ho caricato c'ho proprio la morte negli occhi c'è proprio la stanchezza e quindi gli sti occhiali purtroppo mi servono per forza perché altrimenti passo in modalità ciecato non potete vedere cosa sta succedendo in questa casa perché altrimenti mi mettereste le mani nei capelli ma c'è una piccola donna con una grande sedia no sei tu che sei negne ok prima facciamo un altro tiro da lontano tanto l'obiettivo di sta squadra su questo è stata formata è il semplice tirare da lontano cancrare la gente a morte perché questo è il semplice cancro come si farà malato su base a cap cancrare la gente a morte e quindi una volta che la gente è stata cancrata vai a segnare ok che è praticamente morto anche se sta in full power non secondo me è comunque gol e infatti è comunque quello questo che in purtroppo non riesce già usato il suo portiere è morto che tattica cancro non è che usato la metà ancora e tu sai che faccio metà una mezz'ora dopo basta però che non ti sono in braccio perché sono a scelta la prospettiva che cosa che io sono così che sei fuori dalla webcam metà dentro metà fuori ok ragazzi vediamo se lo riesco a bloccare ma non penso ok posso fare una cosa brutta cosa apri le gambe ok posso fare una cosa brutta apri le gambe ok 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 apro le gambe ok nel video questo sì il video per pornografia non per noi ok rival è stato bloccato anche la tattica cancro ai di nuovo inizio 3 2 1 rival tira ma non per la mano ragazzi ho perso la mano ragazzi non facendo video 4 giorni rival li rival piangeva voleva mezza mela la mamma non l'aveva 3 a 0 ma di quanto è questa squadra? 700 tu sai di? 714 714 non 7000 714 eh? ti tiri da qua giù tu veramente pensi che con Snyder Verde puoi impensierire il mio grande Salinas super Salinas con la parata a una mano livello 72 piccolo ignorante perché quello sei un ignorante non ciccare sul mio computer che ti ammazzo ti massacro uccido la famiglia e ti stermino tu e tu la mia famiglia eh ok mi uccido solo io ehm non è vero non toccare a mia mamma e a mia sorella no mi uccido mi uccido mi uccido solo io ti ho detto che mi uccido solo io ho già fatto la discussione oggi mi uccido solo io mi uccido guarda sembra che non ci hai capito da questa parte sono calva però a me me lo fa quando sto di là perché la luce e come si fa? eh guarda guarda devi stare di qua ah eh no però a me me lo fa a me mi fa tutto il lato di sopra sembra che sono pelato e anche guarda qua non ci hai capito ma guarda basta che è vicino di qua perché di là c'è la luce che ti batte sopra è Dio è Dio che sta sulla mia spalla ok ragazzi possiamo fare due no un cambio solido mettiamo Yuga davanti facciamo il tiro balenante di Rai direi che Todos possiamo cambiare Misugi con Xiao no ce lo teniamo Napoleon in panca chi mi vede Napoleon in panca secondo me mi uccide cioè nella sua testa sono ritardato cosa che non è una bugia sono un po' ritardato no 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 però leggermente non in maniera troppo articolata quella sigaretta dove stai andando? dimmi dove stai andando? ma dove? cosa vuoi fare con quella sigaretta? perché? perché nella mia casa ci stanno le sigaretta? perché? perché? ma questa quale è che prima di vedere che non puoi più? è quella di prima questa è intera e quella di prima? no quella di prima era a metà questa è a metà vabbè voglio dire se stasera prendi un'altra sigaretta va lì giù dal balcone sulle sigaretta ok ragazzi un altro tiro me l'ha fatto senza il full power quindi anche questo straparabile ok ragazzi penso che ci sarà una diretta alle 22 penso 22 e 30 o qualcosa del genere non mi penso penso non mi do certezze perché le certezze poi uno ci rimane male se uno dà certezze non è così ti trovi con il ragionamento? ti trovi ma come sei intelligente sei proprio una regina ok buttiamo per l'aria a Brian proprio Brian ok ha tirato a volo vediamo finalmente Mark Lenders riuscire a segnare un gol per la prima volta nella sua carriera un che Santana normale segna Mark Lenders sottoporta logicamente Mark Lenders che ne parliamo a fa' ma che ne parliamo a fa' di sto Mark Lenders ma chi l'ha fatto? cosa pensava? un samurai inutile un samurai più inutile a chi la stai passando? cap'è bomba ma c'è la miseria vedi perché è veloci sì tu cosa pensi di poter fare? un passo solo un passo no poteva fare il passaggio no però vabbè non fa niente vieni qua mi sa che ti voglio far fare un'azione articolata lentilmente sorpassa il tuo amico Tsubasa Zora ok tu vai sorpassa perfetto perfettissimo continua continua verso avanti non verso giù che ritardi c'hai? quali? ok lui non lo fa intercetto quindi facciamo un tiro balenante di Raichu tanto la partita ormai è finita quindi tiro balenante di Raichu l'animazione è bella devo cambiare le magliette a questi giocatori l'animazione è bella l'animazione l'unica cosa bella è il computer sta scattando per qua l'hai parata con un pugno vabbè lasciamo perdere non voglio neanche commentare tutto ciò tiro il loop potresti segnare col tiro il loop ma no ok tu cosa fai? tu ora fai 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 fuorigioco logicamente ma perché? perché mai Mark Renders dovrebbe segnare un gol anche se il portiere è a zero di stamina sempre cioè l'inutilità fatta essere umano Mark Renders ok ragazzi detto questo non usate Mark Renders anche se l'avete pullato se avete un tiro di Raichu no no ok ma che mi è successo? non è che stavo vincendo ma io ho vinto non è che stavo vincendo io ho vinto calcolate bene le parole io ho vinto comunque anche se avete il tiro di Raichu più 80 buttate Mark Renders perché non serve a niente il personaggio più inutile che abbiano mai fatto in tutto il dannatissimo Oglie Benji detto questo chiudiamo questo video la partita è andata più che bene ho fatto vediamo un po' sei partite sei vinte non mi ricordo neanche io non sto giocando proprio quarto grado si hey yatta contentissimo ok sei partite sei vinte quindi ok le Dream Ball come potete vedere non sono state toccate quindi non sto assolutissimamente bullando sto aspettando il Dream Festival o almeno ci sto provando per questo video e todos ci come se fosse che sia un video di morte eh sì perché Benji cioè Lolli che sta attualmente è un po' una calamita tira per questo video e todos ci becchiamo sdobos tayonara